Ed eccoci qui! Volevo fare una intro con tutte le persone Anche se effettivamente ora in post produzione mi sono reso conto che è abbastanza difficile E quindi mi limiterò a fare questo DAMMI PLAGUI GAMER! Io mi chiamo Oliver Orlando Vai Dai rega! Che devo fa? Devi dire dammi piace un gamer DAMMI PLAGUI GAMER ZIT Ma Matteo come dire tu a te invece? Ok, dammi PLAGUI GAMER Sì vabbè Matteo Avviamo rega Vabbè La semplice si mangia qua rega Mi sono venuto con le due lutte e... Veloce da mia, veloce! Veloce! Che sta la grasa? Veloce! Oh la cosa mi servis E' una pallista! Dove? La minican... Oh la mica... No! 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 Mi serviva il passaggio segreto cazzo! Eh! Devi prendere prima dammi amore! Io muo... Tu andami a prenderlo! Aspetta eh! Andami a prendere la Dagenzia... No! Dagenzia è col cazzo! Eh! La mi sto qua rega! Non sto prendere! Mo riesco! Movedi! Ok! Ehi! Fasta! Torno rega! Non l'ho trovato! Io mi sto a morire rega! Eccomi! Do state? Aiaiaiai! Se andiamo per favore! Non lo voglio stare a prendere! Dove? Ah rega io sto a per morire! Via! No cazzo! Via! 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 Viacqua! via no non è solo salito se te ne vai oh non mi fa salire ok spara me bene dai fai comunque se ce l'ha studiato via vai vai ma che c'è l'elevatoria l'ho sparato da solo non ho fatto a forza non mi ho carica se vede il bende per i jacob ho fatto per i jacob c'è un cazzo c'è un po' di fortuna va caricato va caricato aspetta non mi devi far sparare non ci credo la terra la terra oh mi vuoi fare sparare a me mi vuoi fare sparare a me si vabbè madonna c'era io e lei allora in secondo me squalo atterrando in questa landa desolata insieme ad uno sconosciuto i nostri eroi senza ambizioni né obiettivi dovranno patire la fame andare avanti a spaccare palme e resti abbandonati di aerei ma verranno ricompensati a terra un altro io ok e io la team si arriva io sto combattendo contro due guardie senza armi appunto oh no via quel piccone oh il fibiologo amato dove? al fame dove sta? ho chiuso qui dentro non mi scappi ah no io no ma chi è? amo questo come speri animali che grande è un grande bro ma che era? non c'è un passato di un caimano aria quella la sta sopra di me sento che sta dicendo qualcosa in coreano in coreano dove non ha? ehm da mia c'è lei che il primo ha detto adesso mi sta puntando mmm no eh io non c'è stiamo sostituito la senza niente che famo da me no niente e pure io non ho colpi non ho materiali e questo è tutto rosso perché? no ma qua ci sono arrivati non c'entra poi ci sei arrivato però ho preso una basca e sto avvenuto si avrà schizio letta guarda Damiana guarda Damiana verso le carte se è nato tanto di noi cacca di tutto si è vero si è preso mostaggio a te con l'arma di vita è una demita di sky io 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 non ho cercato di strada ho bisogno dei materiali stavo tipo radica i due arberi che già ci stavano in scuola non ci sono ma copi ho trovato un po' un po' un po' all'alazato io non ci sta nient'altro non c'è manco un teletrofport mamma cacca non cacca non cacca eccola hey bro hey bro hey bro hey bro 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 io ci vado a parlare rega andiamo 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 ma dai vedemi l'altro vediamo un italiano andiamo 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 ah beh andiamo hey bro hey bro hey bro però un cazzo non rispondere hey bro mi capisco fighi regano io sono italiani no no italiani italiani italy italy ah si ah si bravo io ho tre medici che si è scusibili a me non viene io ho tre medici ho lasciato 12c4 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 aperto via dovevo toccare il terreno va bene si muore si ventura andiamo 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 ok al massimo da la legna davvero se ti danno poi ti mangi questo intanto fa un po' di emissione oh 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 sembra essere 19 ma ma questo fa la furia no a parte scherzi io me lo faccio qua non sto questo sparo si te fermi aspetta la carica ho quasi fatto andiamo in termine a salire dai riga tu che gioco al serio ma basta fai mi sparo se prima sono 12 ok rifai i tre vittori reali di fila no 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 ho però curi che c'ho di posa di vita ok ecco ok una caduta dal sesto piano toglie mi sembra 80-90 sembra 80 sono già da loro due team spigliola c'è stato vabbè 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 no e mi ha chiuso da me sali me via ma che c'è gente al giù ma capite mi faccio i mali eh lo so ma punti ma si è venuta il 9 qui li stanno a petà chi ha messo questo è l'amico è l'amico è andato chi è andato questo batterio è io è io ma non penso no lui sarà di qua no 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 eh che se è Matteo eh lo so io si questo cosa ho fatto è un 2-4 contro 1 vedo un po' lei ah eh no mica ma qui certo è una partita con zero kill io boh io ho una 3 kill quando ho fatto ma che partita hai questa rega stupore ma che cazzo non so poi arriva a bannamo lasciamogli tante uccello ma sarà pure in secco marino guarda no no che è che mi ha chiuso tutti i stronzi a chi d'aita a te è praticamente morto ragazzi si pure te non lo so rega io io sto bruciato ora eccolo dai l'ho ammazzato dai l'ho ammazzato tu 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 dai mi potete capire io sto atterrato di aro con questa ragazza che ci ha ammazzato però si esatto basta che stai vincendo io m'ho fatto 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 erano i t3 stronzi sull'isola la mia per più di merda esatto mamma che schifo i t3 coltellati a petto